bella zamba con i 75, qualco beccherino allora, va bene partiamo con soulmask questa sera un omega early access dove togliamo subito il post processing prima che misto pianga però mi piace che è già disattivato quello language, english, spagnol, niente, non contiamo un cazzo ragazzi ok, continuo forse non ci sono server online game no, credo che non ci sono e invece, ok online player 50, però non male minchia, però ping ha un botto oh, possiamo provarlo online, regà? bella rox con gli 8 oppure possiamo provarlo in signor cazzo però giocare con 150 di ping, regà, è una merda via insieme ai caffè tutto a posto il server più basso è tipo questo, 117 di ping americano quindi hanno, hanno, sono server a parte che sono pve, quindi comunque tanto vale giocarlo no, sono tutti pve, quindi tanto vale giocarlo in singolo private game game name player map cloud mist forest va bene max player quantity va bene game mode pwe go ciao kaijo ciao nimo cos'è questo cos'è questo ok allora non posso zoomare su pg no saremo una treccina ovviamente raga ma ma che cazzo chat ma c'è un problema c'è della lag arrivano dopo boing porca vacca body size oh cos'è body fat cos'è body fat scusami che non cambia niente ma però c'è breast regà dai che sessismo infinito che sessismo infinito eh no body fat non esiste eh scusa e il maschio c'ha il maschio niente regà no big all allowed eh body fat ah no cambia qualcosa ah vedi sono i muscoli così è muscoloso così invece è cicciottoso ok no faremo la signorina con i codini la faremo ok bassissima no dai normale con un po' di body fat body size così e secondo me sono già enormi così per vabbè certo che siamo noi per non avere delle tette enormi in un videogioco dai che cazzo ciao palco ma che cazzo è ah la maschera ok guarda come dondolo guarda come dondolo no va bene ok già gli FPS mi sembrano belli stabili ci piace allora Trism madonna mia T-Mask oh Gesù J-Experience va bene questo menu è il più bello di tutti allora manually collect bush once ok Picasso non sono nel branch of the underground per si cita ah figo puoi anche skippare le quest ma è glorioso corre in maniera un po' strana ok per si to enter mask repair to view knowledge and technology the rise of barbarians preso the campfire on the right unlock what what allora pre porca puttana si è scritto in piccolo ah no uno secondo ho fatto il danno e o o o o o o Grazie. Ok, perdone, mi è caduta la borraccia, si è aperta e ho slavazzato un po' per terra. Allora, ovviamente lo studio è talmente piccolo che mezzo bicchiere d'acqua avevo già l'acqua con le caviglie. Allora, press T to enter, must prepare to view knowledge and technology, the rise of the barbarians, press and hold the campfire on the right to unlock. The rise of the barbarians. Ah, ok. Ok. Allora, primitive tool e press stone tool, ok. Primitive tools. Press, press the stone tools technology under, eh ma stone tools quale? Tutti. Vai, facciamo la lascia e piccone. Ok. Allora. Select one of all my team to prioritize for use. Ah, ok, puoi scegliere... Cioè, puoi fare diversi cosi? E come si crafta? Un craft, c'è? Allora, doppio clicco, ok. Ah, mi è uscita viola. Bello che viene scritto chi l'ha craftata. Ok. Ok, così mi sale mining. E questi non li devo raccogliere, perfetto. Cioppiamo un legno. Speriamo che smetta di porca puttana piovere, grazie. Andiamo per rivellare. Andiamo a vedere come viene giù l'albero. Ok. Ok. E' la meglio che non lo vedevo. C'è da fare una site, che dobbiamo ancora impararla. Fai prima che andare su Simeronia. Ascoltami, sei qui per guardare lo stream, hai capito? Non sei parte attiva dello stream. Guarda lo stream e non rompere i coglioni. No, non ho capito io. Fai prima qui, fai prima là, fai questo, fai come un video. Ok. After building, I can't find it once. Ok. Ci si sente a casa qua, esatto. Non si contro... Un tacchino! Ma che cazzo, ma è level 10? Il tacchino è fortissimo, però non l'ho buggato. No, niente, non possiamo con questa cosa qui. Non gli facciamo danno. Oh, chat, l'avete visto? Siamo veramente vicinissimi a diventare ambassador del... Non porta pena, del Tanja, eh. Campfire. Ah, insufficiente. Vedi, non capisco. Cioè, cosa serve per fare un campfire? Fibre e branch. Non riesco a capire, chat. Perché ho flint o stone? Cioè, materials needed. Cioè, servono... Ah, forse servono cinque fibre, cinque branch e o dieci rocce o dieci flint. Ok. Ok. Cicrops. Ma le robes E' un pacco, c'è una scelta Naber, look, ask me Oggi Sam sembra addirato come uno di quei wrestler Al quale hanno appena dato una bastonata nelle palle Ho sbaglio? Oh yeah, fratello, senti il ritmo Quando la tensione sale Il macho madness scende nell'arena E ti dico che Sam è pazzo come un wrestler a Wrestlemania Nessuna bastonata necessaria Perché l'intensità è la firma di un vero campione Naber, look, capisci quello che ti sto dicendo? Sam è nel ring della vita Pronto a dare il massimo Yeah! Dig it! Dig it! Ma vaffanculo Certo, non capisco Allora, qui dice Prestito Intermask, Knowledge and Technology, Basic Building To learn how to make thick ropes C'è sulle corde? Ma non ci sono? Basic Building C'è la foundation Touch wall Touch cover Touch door Furnito Touch frame Ah, se le cerco ci sono Se mi finisce the product Come il primo? Come il primo? Ah, è il loom No Ok, touch foundation Mi blocca Ok, ok, pardon Scemo io Minecraft at the crop Va bene Use the primitive weapon once Mask tech Quindi mask tech è qua Quindi mask tech è qua Abbiamo un punto No, sarà sempre da qui No, sarà sempre da qui Primitive weapon Basic slaughtering No No Primitive weapon C'è la spear L'arco Vediamo sia l'arco Che la spear Paco Wow Asked me Ciao bot Lo scopo di questo gioco? Oh fratello Sta chiedendo dello scopo di un gioco Sai che Go Easy Twitch Log È il maestro dell'obiettivo divertimento Quindi se cerchi un senso profondo Forse sei nel posto sbagliato Qui si gioca duro E ci si perde così tanto Che anche lì ha di treccine Si sentirebbe disorientata Capisci cosa ti dico? Ora smettila di cercare uno scopo E goditi lo show Coglione Se non ti distragga la chat che ride Perché lì ha ancora non può pronunciare bene Paco Oh Paco Oh Come una scandita È per trollarlo Per provocarlo Regà Vuole la rissa Con Paco Ciò Il mio bot Ok Allora Wooden Arrow E per fare l'arco Mi serve un'altra T-Crop Ok Ok Abbiamo fatto un po' di frecce Use the primary weapon once Ok Dov'è il tacchino? Cazzo Dove sono i tacchini? Regà È un tacchino quello no? Un faffo Se solo riuscissi a ritrovare i tacchini Regà Se solo riuscissi a ritrovare i tacchini L'ho fatto a spiare i tacchini? L'ho fatto a spiare no? Qui un'altra T-Crop Qui un tacchino? Minchia What? Ah non c'è più stava Sai che l'arco fa cagare? Ma che cazzo regà? What the hell? Ok L'arco è buggato Credo Sì L'arco credo che sia buggato No Ah Ah Ogni cosa c'è anche la weapon art Ok Save data 10 chili Ok Sei sicuro di aver scelato le frecce? Effettivamente ne ho 25 Scusami Ma 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 non sto usando le frecce regà E Dove le dovrò equipare? Le metto in barra? No Ehm Come Come Mi sta esplodendo il braccio No mi è rimasta buggata Ok Ah Sopra l'arco Ok Ok È momento di provare allora Tacchino Che è anche smesso di piovere Cazzo Easy Vediamo se posso riprendere la freccia No Ok Ok Vuole che io faccia una touch foundation Ehm Mi servono due rope Ok Ok Masterliner processing in mask tech Oh cazzo Ok Ok Ehm Ma non mi ha detto dov'è Masterliner processing in mask tech in make linen ones L'avevamo visto prima No No Questo butcher table Tanneri Bandage Non serve Non serve Non serve Non serve Loom Tipo Tick hide Ma vediamo se io faccio linen Linen Prendiamo Linen Linen defense Gear Credo Ehm E dobbiamo craftare E dobbiamo craftare Linen Una volta Tutto una linen gear Ok Cazzo 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 ne so Per fare una roba in linen Mi piace che c'è il search Va bene Allora facciamo Quanti Quanti ne posso fare Non posso metterli in coda tot No mi sa di no Troppo mi servono i vine Abbiamo messo delle show Non so da dove sono uscite queste show Ma ce le abbiamo Va bene Bella Pseed con i 5 E anche Torinir Thank you Johnny Grazie mille per la Per il secondo mese Il più importante Welcome back Ok dobbiamo fare Un butcher knife Butcher knife Sarà sotto weapon No Mi fa fare Butcher table Ma non c'è Il butcher knife Oh no Non ho qua ok Era tra le cose di stone Ok Dobbiamo Uccidere Quella bestia di satana E scuogliarlo Finga Chiamalo butcher knife Questo Ok Craft a plank O O Randall O The carpenter Stable Ok Dobbiamo fare Il coso Del carpintiere Basic carpentry 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 table 10 10 di stone 10 di stone C'erano dei log Delle rope Tipo Allora io non capisco Le rope Vedete che qui c'è scritto Manual crafting Zero su tre Other crafting Table Bruplint Manual Ah ok no Manual Ah no Credo che devi per forza Cliccare Mi servono I vine Che credo si prendono Col falcetto Vabbè ci serve un po' di tutto Raga Dobbiamo gatterare un attimino Questo mi da branch E log Ma è sudato il PG Regà Vedete che è un effetto del gioco È sudato Ma perché è uscito Un altro arco Regà Questo qui Me ne è uscito Uno Epic Quello che Il primo Quei ho craftato Era Epic Ho fatto un arco Leggendario Cazzo C'è il peso? Ma è il gioco più bello del mondo Sì c'è il peso Meggianotte No devo capire in basso a sinistra Cosa sono quei numeri che 18 16 Devo capire cosa sono quei numeri lì Forse le abilità che mi salgono No le concine non sono quelle Xp non lo so Forse voi non la vedete bene Perché c'è la voice No lo vedete C'è il logo di Goezy Ma Vedete che c'è il Sono tre numeri diversi C'è tre numeri uguali Con tre concine diverse Boh Abbiamo un problema di stama Ok Teoricamente ora dovremmo essere in grado No forse vi serve una falcettata Ma così mi dà le fibre Ma sono le liane Eccoli qua i vine Ok Carpenter Stavor Le rope Ancora queste cazzi rope Facciamo ste rope No non voglio fare i pillar Ma perché Porca puttana Oh volevo la foundation Ok Abbiamo fatto un po' di rope Così almeno non mi rompiono più i coglioni Per le rope Facciamo sto Carpenter Stable Facciamo anche delle altre foundation Perché almeno Facciamo una casa decente Bella esperta con i 69 Gnep Grazie Johnny Altre rope servono Minchia Ho il gioco delle corde Non posso più fare le rope Raga È finita Sono più vine Si corre proprio strana Che di notte Non si vede un cazzo E non è ancora notte Più fibre Più fibre Il gioco è così ragazzi In ogni tempo morto che avete Dovete mettere in coda Tre corde Qualsiasi cosa Per tutta È come quando giochi a Starcraft Praticamente tu fai una roba Poi tabbi E metti in coda un SCV Produci una roba Tabbi E metti in coda un SCV Più uguale È sfibrante Bella Nico questa Complimenti Anche oggi La tua cazzata l'hai detta Tutto il gioco si basa sulle corde Esatto Dovremmo legare qualcuno Chat Ma dove Ma non è vero Che gli ho detto Di metterla qui Ok Scusate Secondo voi cosa cambiava Tra Recycle E Dismantle Allora Questo l'abbiamo fatto Va bene E lo mettiamo giù Perché intiposi il mio PG Mentre fa questa cosa Ok Craft a plank Ora handle On the Carpenter's Table Plank Perché non posso Ah qui ci posso mettere lo schiavetto Ok Perché è Locked Perché non posso farlo forse Wooden Handle Forse la Handle Mi potrebbe essere più comoda Che magari serve per craftare altro Ho trovato il modo Come vederle rimbalzare Raga Basta mentre lo chiede lavorare Usa Stone Weapon Once Cosa vuol dire Better Weapons Scusate Stone Axe Non è un Ah non è un'arma Giustamente Ehm Ciao Onni No non si può mettere Per dieci Onni Vai tranquillo Ehm Stone Weapon Stone Arrove Stone Spear Stone Blade Stone Great Sword Ehm Stone Dual Blade What the hell Mi scappa una pipì enorme chat Vediamo Ehm Ma scusami ma io non avevo fatto la Wooden Handle Dov'è finita? Mi pape ragazzo Niente È il Tangia Moment No Lino Con il Ride Ah vedi Ah me le mette qui Ok Ciao Linone Con il Ride Ma basta Niente Lino Allora vi lascio tutti con Lino E con i Lino in trattini minacciato Devo andare a fare pipì Ehm Aspettate Vi faccio vedere che ballano dopo Arrivo Arrivo subito Incredibile Che di servizio Ehm Di con i Vi faccio vedere che ballano dopo Tutto Di lino Di lino Di lino Ehm Di lino Mi Di lino Di lino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo! Arrivolo! Un secolo, no, c'è Stancia che parla. Ma tranquilli, alla fine Go Easy salvarà tutti. A meno che non si dimentichi ancora di come si usa l'ascia. Esatto, lascio una doppia. Ok. Niente. Io sono onnipotente, ask me. Puoi raccontare alla chat quando Sam non ha voluto il mio Timo Jungler? Ciao Giulie. Ah, quella storia lì. Senti questa chat. Una volta hanno avuto la brillante idea di giocare a Timo Jungler. Guardate cosa succede quando tiro fuori dal duale. Non sono mica nato ieri. Gli ho detto chiaro e tondo. Nel mio stream non si fidda, capito? Timo Jungler. Piuttosto mi metto a giocare a Minecraft. E sappiamo tutti quanto lo adoro. Ah, la mia IA scadente avrebbe fatto un lavoro migliore. E dire che ha più bug di scorn in una giornata buona. Ok, grazie Giulie per il secondo mese. Thank you. Pardon, vorrei fare la doppia P. No, no, no. No, no, il coltello... Ah, Simo. Voleva infilare il coltello nelle bobas. Ma guardate che figo però come... Allora, corre strano. Però mi piace tantissimo come tiene la duale. Mica, ma faccio i graffi nella sabbia. Ok. Ok, Cooked Meat. Consumere di Cooked Meat per usare il campfire o il bonfire. Allora, io direi di sbloccare il bonfire visto che... Ormai siamo a Casina. Facciamo un bonfire. Bonfire. Non c'è già troppa roba in bar, eh? Mela Canaz con la Legendary 55. Finalmente qualcuno ha fixato la carta. Yes, micchia enorme. Ma che cazzo è? Perché ho bisogno di tutto quello che ho intorno? Cooked Meat. Crafted Unlocked Crafting Table. Ah, forse perché non ho messo la legna? Però vedi, non posso mettere... Cazzo, falla tutta. Cioè, io ho 27 di Fresh Meat. Come faccio a metterli in coda? Ah, cos'era quella roba lì? Minchia, non riesco a leggerlo in tempo. Mi sa... Manual Crafting. Other Crafting Table. Add to Plane Queue. Eh no. Eh no, non si può farla tutta, raga. In quattro ore Decaya. Eh, perché praticamente credo che il gioco funzioni che tu devi catturare gli schiavi e mettere loro a fare le cose. F. Eh no, Repair Craft All, vediamo. Ah, minchia, sì. Bravo, Johnny. Ok, very good. Use the water bottle once to quench or thirst. Ok. Take water from water source if the water bottle is empty. No, qui prendiamo la water bottle, un bug net e la lampada. Cosa serve per farla? Mi serve la Beast Tide. Grazie, dai, in quei 61 la Beast Tide diciamo che la dobbiamo prendere cacciando. Beast Tide Common Carcass Chunk Ah, ok, dobbiamo prendere il Ah, figo! Vedi, prendo quello dopo e mi prende già in automatico il Butcher Table. Ok. Beh, non mi piace, è fatto da Dio, raga. Cioè, il gioco per adesso è fatto tutto nel modo giusto. Sono i sassi e la legna. Ciao, Esco! Dici così solo per le tette enormi, non è vero? Aspettate quando si lamenterà nell'inventario. Bevo! Ok, era un tentativo da fare. Sì, sono qui per quelle enormi tette. Molto bene! Sarebbe stato questo strano il contrario, Johnny. La sincerità prima di tutto. Cinque anni che sono un sub e avrò scritto dieci righe. Effettivamente non scrivi mai, Dan. perché? Diccelo. Sfogati con noi. Perché c'è Ramingo? Hai paura di Ramingo? Eh, ma ti capisco, eh. Ramingo fa paura a tante... Anche lui stesso ha paura di se stesso. Cioè, Ramingo teme Ramingo. Ok, si è rotta l'accetta. La possiamo riparare? F, repair. Easy. Sarò sempre d'accordo con tempo. Chi sarà sempre d'accordo con me, Trinco? Allora, dobbiamo fare il Butcher Table. Ah, forse solo la... La schermata di craft sistemerei un attimino. Per il resto mi sembra tutto on point. Però questa schermata qui dove si crafta, dove fa vedere come le risorse che servono non mi piace tantissimo. Fino a qualche giorno fa poi ho cominciato ad amarti molto. Oh, shit. Ricordatemi di non interpellare mai più Ramingo. ok. E qui, teoricamente, noi possiamo fare Carry On. No? Beast Tide. Common Carcass Chunk. Dove li prendo i Carcass Chunk? Cioè, mi devo portare... Forse posso caricarmi l'animale intero in spalla, regà? Ah? 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 Anting Score. Cioè, il freddo? No? Magari non lo droppano i tacchini ma qualcosa di più grosso. Vedete che questo qui mi dà solo il myth. Ma la chizzone con i 63 Welcome Back.